Tres anni fa ero laureata, avevo un lavoro ben pagato, lavoravo in ufficio a Bruxelles, abitavo in una grande città, finalmente il mio grande desiderio. Un ragazzo stupendo, almeno due viaggi all'anno, se vedevo un bel vestito in vetrina me lo compravo. Teoricamente avevo la ricetta del successo e teoricamente dovevo essere felice. Eppure ero insoddisfatta, ogni mattina suonava la sveglia alle 6.00 e senza nemmeno alzarmi dal letto mi dicevo, a volte a mente, a volte a voce, la mia vita fa schifo, vi è mai successo? Oltre ad essere insoddisfatta ero confusa, nella testa avevo le solite domande, cosa voglio fare nella mia vita? Che cosa mi piace? Qual è il mio stile? Dove vorrei vivere? Che lavoro fare? Qual è la mia passione? Abbiamo così tanta scelta oggi che ci sentiamo persi. Io ero decisamente persa, anche se non sembrava. Continuare così non era un'opzione, non lo volevo accettare, anche se non avevo idea di cosa fare, ero sicura ci fosse una soluzione e dovevo solo trovarla. Non pensavo a cosa succederà se cambierò e fallirò, pensavo solo a cosa succederà se non cambierò. Il mio percorso iniziò con un bel decluttering dell'armadio. Decluttering significa togliere il superfluo, eliminare la confusione e implica lasciare andare tutto ciò che non si usa e si ama veramente. E fortunatamente al mio ragazzo non piaceva metà di quello che avevo e così sono riuscita a liberarmi di tutte quelle cose che portavo, che mettevo perché ce le avevo, non perché mi piacevano davvero, perché mi stavano bene, mi facevano sentire bene a mio agio, che tenevo per non si sa mai. Questo primo passo così semplice perché si tratta solamente di vestiti non è stato per nulla semplice, anzi lasciare andare qualcosa di mio, si è rivelato più difficile di quello che credevo, provare per credere. Questo primo passo però mi ha insegnato, mi ha fatto capire cosa significa lasciare andare, ad entrare nell'ottica del non devo tenere tutto solo perché ce l'ho. Le cose che possiedo devono svolgere una funzione per me, oppure devono portare valore o gioia alla mia vita. Questo primo passo mi ha fatto capire che se ho solo i miei vestiti migliori, sono sempre vestita con i miei vestiti migliori. E lui ho pensato, e se potessi applicare questo metodo ad ogni ambito della mia vita? Se potessi passare il mio tempo solo con le persone migliori che mi aiutano a diventare una persona migliore, a fare attività che adoro, che mi riempiono di felicità, non quelle che sembrano più giuste per me al momento, ma quelle che mi fanno sentire davvero bene. Sarebbe fantastico, no? È quasi irreale. Eppure è possibile, grazie al decluttering. Iniziare prima con i vestiti e poi con gli oggetti attorno a me mi ha aiutato a fare del decluttering un'abitudine che piano piano ho applicato ad ogni aspetto, ambito della mia vita. Le domande che mi faccio spesso sono, mi serve? Lo voglio veramente? Come mi sento ad avere questo cassetto, questo mobile sempre pieno, non so mai con cosa e quando cerco qualcosa non lo trovo? Come torno a casa dopo aver fatto quell'attività e dopo aver visto quella persona? Cosa vorrei fare di più? E cosa vorrei fare di meno? Potrebbero sembrare tante domande, ma non è qualcosa da fare in un giorno, anzi, è decisamente un percorso. A volte è difficile, ma non impossibile. È decisamente liberatorio, che ti porta a diventare consapevole di ciò che ti circonda, di come passi il tempo e con chi, perché non si tratta solo di vestiti, oggetti, ma anche di attività, di persone, di cibo, di pensieri. Questo è il percorso verso il minimalismo. Il minimalismo mi ha fatto capire cosa è veramente importante per me, ed eliminare tutto il resto, a capire quali sono le mie priorità ed introdurre più consapevolezza e intenzionalità nella mia vita. Il minimalismo mi ha fatto capire che io non sono il mio passato, ma che ciò che possiedo ha la capacità di tenermi nel passato. Ciò che possiedo può diventare un peso che mi rallenta e lasciando andare il passato posso concentrarmi sul presente, posso diventare chi voglio, posso cambiare il mio futuro, perché il domani dipende dalle scelte che faccio oggi e posso cambiarlo come desidero io. Lasciare andare quindi mi ha aiutato ad essere aperta al cambiamento, a non essere più ancorata al passato. Il minimalismo mi ha aiutato a lasciare andare, per ottenere la libertà di essere chi sono veramente. A me piace pensare che sia un percorso di libertà, ci libera lo spazio, ci libera la mente, ci libera il tempo, per permetterci di focalizzarci su ciò che è veramente importante per noi, che sia la salute, la famiglia, i figli, una passione, il raggiungimento di obiettivi in particolare è lì, liberi dal superfluo, comincia la nostra vita vera. E così è stato per me. Eliminando per prima i vestiti, poi gli oggetti attorno a me, attività, alcune persone, i vecchi ricordi, pensieri negative e limitanti, ho fatto chiarezza su cosa mi piace, cosa mi fa sentire bene, soddisfatta. Poi ho lasciato il lavoro che facevo e infine il paese dove abitavo. Ora mi sento felice e grata per tutto quello che ho, la mia casa, la mia piccola famiglia, è quello che faccio quotidianamente, ma se sono riuscita a farlo, a raggiungere questo stato è perché ho lasciato andare molto altro, ho lasciato andare i pesi. Posso dire che il minimalismo mi ha salvata, ma se dovessi rispondere alla domanda qual è la differenza tra la media allora e la media adesso, direi, il coraggio di cambiare. Grazie.